Grazie Presidente, faccio seguito alle parole dei miei colleghi che sono intervenuti finora, con i quali condivido il vero e profondo rispetto per l'ambiente, per dichiarare che sono contrari al TAV, perché le conseguenze delle trasformazioni del territorio sono e saranno molto pesanti anche per la fauna locale. Vorrei rassicurare i colleghi consiglieri della minoranza, delle minoranze che sono intervenuti finora, dicendo che questa mozione non è uno specchietto per le allodole, anzi so che può far sorridere, ma può essere uno dei pochi atti amministrativi che le allodole le vogliono salvare. L'imprevidenza e la limitatezza degli umani nel non considerare o sminuire le conseguenze di quest'opera su tutti gli esseri viventi sono un macigno per chi come noi e come molti faunisti, molti biologi, molti scienziati che hanno studiato le conseguenze dei lavori per il TAV sulla fauna, bensà che la terra è un ambiente unico e l'ecosistema locale contribuisce al benessere degli stessi esseri umani di tutti noi. Una pesante variazione dell'ecosistema nemina la biodiversità e genera danni anche per gli umani. Gli effetti negativi di quest'opera sono molteplici, alcuni di essi faranno sentire i loro esiti direttamente agli animali, a tutti gli animali, soprattutto a quelli liberi. Proprio gli animali liberi sono quelli che soffriranno di più le criticità delle modificazioni sull'ambiente. Parliamo di rumore, di occupazione del suolo, di stravolgimento di sorgenti e corsi d'acqua, di interruzione di corridoi ecologici, di distruzione assoluta degli habitat. Ma noi siamo umani, ci crediamo più intelligenti, più potenti degli animali e della natura in genere. Fino a che non avremo chiaro che danneggiando la natura e sfruttando gli animali noi grandi umani non saremo nessuno. Danneggiare l'ambiente significa danneggiare noi stessi. Come dice il capitano Paul Watson, la natura tende ad eliminare i problemi e se noi siamo il problema la natura ci eliminerà. Essere ambientalisti e animalisti, aggiungo io, è anche una questione di autodifesa. Dobbiamo garantirci la sopravvivenza perché la terra sopravviverà, ma se noi non siamo in grado di vivere in armonia con l'ecosistema, ci estingueremo. Pensare che questa devastazione viene perpetrata con il solo scopo di soddisfare gli appetiti di pochi, utilizzando le risorse di tutti e giocando anche sulla pelle degli animali, non può che farci essere ancora più fermi e determinati e affermare orgogliosamente che è anche per questo che usciremo dall'osservatorio. Grazie.